buonasera a tutti oggi ho un video che sono particolarmente felice ed orgogliosa di farvi vi sto per presentare ufficialmente il mio primo libro il mio primo libro per aso che sono sia informazione che siano già formate ma vogliono mettersi alla prova con quello che è la loro preparazione teorica tanti di voi magari l'hanno già acquistato e vi ringrazio tanti magari non lo conoscono e quindi ne approfitto per farvelo conoscere il libro in questione è questo adesso poi ve lo metto in sovrimpressione è uscito ovviamente come me che sono mentasti rossana ma con il mio brand il mio logo che è appunto pillole di aso è un libro che mi ha portato un sacco di tempo perché tanto che ci stavo lavorando dietro ma adesso sono veramente felice fisicamente di averlo in mano e tratta che cosa sono più di 660 domande di ogni branca dell'odontoiatria quindi trovate da anatomia a ergonomia a ruolo aso a quello che è protesi trovate dentro tutto e sono tutte domande risposta chiusa con tre risposte ognuna e in fondo al libro ovviamente avete anche tutta la griglia di correzioni in modo che man mano che lo fate riuscite andare a vedere insomma se la risposta che avete dato è giusto sbagliate quindi poi magari andare ad approfondire il perché avete sbagliato e come cosa in più che mi era stata tanto richiesta e quindi voluto inserirlo sono l'elenco dei vassoi operativi quindi per esempio se sono neofita e non ho ancora ben chiaro che cosa preparare per fare un'igiene professionale in studio troverete uno scheletro di vassoio standard per igiene per protesi di un certo tipo per endodonzia per chirurgia per chirurgia estrattiva o implantare quindi ne ho messi tanti 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 per aiutarvi a dare quello che è una griglia iniziale ovviamente sempre personalizzabile rispetto a quello che è la volontà uno strumento piuttosto che un altro dell'odontoiatra e come ultima cosa sempre vicino ai vassoi operativi ho inserito quelle che sono le scalette degli appuntamenti per protesi perché in aula spesso mi trovo in degli alunni in difficoltà ma è giusto ci sta perché protesi soprattutto abbastanza difficile da comprendere finché non si entra un po nel meccanismo di devo magari dare un appuntamento per fare una corona ok devo occuparmi di dare gli appuntamenti ma più o meno quanti appuntamenti ci vogliono che cosa si fa in ogni appuntamento allora dato che io li devo dare devo sapere sono 3 5 7 2 1 quindi anche in questo caso almeno per protesi vi ho dato quello che è un'idea di massima di scaletta degli appuntamenti con questo non vuol dire che la mia sia la realtà assoluta per tutti ma è solamente un aiuto per avere una base sulla quale poi sempre parlando con il medico io posso andare a arricchirmi di ulteriori conoscenze fisicamente costa 13 euro e 90 quindi un prezzo anche alla portata di tutti si fa anche del bene al comprarlo perché tramite la casa editrice cala albatros c'è anche una quota del prezzo del libro che viene devoluto a un progetto unicef che va ad aiutare quello che è la scolarizzazione dell'educazione femminile nel nigger quindi insomma si fa anche del bene e nulla dove si trova ultima nozione si trova su amazon si trova la filtrinelli alla mondadori librerie universitarie qualsiasi libreria quindi potete trovarlo sia fisico qualora non ce l'avessero potete ordinarlo online come sempre aspetto qualora ce l'abbiate lo comprerete uno mi ringrazio secondo aspetto i vostri commenti e le vostre recensioni spero di esservi stata utile vi aspetto su qua sotto con i commenti un supporto con il like per farmi sapere che vi è stato interessante questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao